Presidente Sebastiani, lo slogan di quest'estate da lei propugnato è state sereni, stando sereni piano piano arrivano i colpi, Crescenzi e poi? E poi intanto abbiamo fatto nell'ultima settimana, abbiamo preso tre giocatori che non mi sembrano gli ultimi arrivati perché sono Crescenzi un nazionale under 21, Perini io penso che sia il miglior portiere giovane che c'è in Italia e Ragusa è un giocatore che già seguivamo due anni fa, secondo me abbiamo fatto un ottimo investimento. Per quanto ci riguarda il mercato del Pescara, io ho detto che non finisce, è appena iniziato, io penso che il Pescara debba prendere almeno 4-5 giocatori in diversi ruoli per completare l'organico e farne uscire 4-5 che devono andare a giocare. Ma d'altronde nella nostra rosa ci sono intanto tanti ragazzi che sono venuti in ritiro e quindi magari poi nel corso dell'anno vedremo in qualche occasione se ci sarà possibilità in prima squadra. Però arriveranno sicuramente 4-5 elementi che ci possano garantire un organico all'altezza della Serie A. Coniugando l'esigenza di sfoltire la rosa con quella di integrarla, è possibile un togno soddimo a Varese per Terlizzi chiudendo anche questa mini telenovela? Io penso che su Terlizzi la chiuderemo ugualmente o in un modo o in un altro la settimana prossima la chiuderemo. Non c'è solo Terlizzi, sapete che siamo al lavoro da circa un mese e mezzo su una lista di giocatori che si allarga sempre di più. Quindi se non viene Terlizzi succede nulla, probabilmente prenderemo un altro. Però al di là di questo Terlizzi è un giocatore che a noi interessa e quindi vedremo di chiudere con il Varese per portarlo a Pescara. Jonathan Sevvais, a che punto siamo? Stiamo aspettando notizie da Manchester che è la trattativa che ci porterebbe ad avere questo giocatore che abbiamo seguito sin dall'inizio. E' chiaro che non è una cosa semplicissima, però abbiamo buone possibilità di portarlo a Pescara. Siccome considerando quello che è successo fino adesso e fin tanto che non ce l'ho qua davanti, mi fermo qua. Purtroppo il calcio italiano una volta aveva un grande appeal per i giocatori stranieri. Oggi secondo me anche le grandi squadre fanno fatica a convincere i giocatori bravi a venire in Italia. Ci sono società in Europa, nel mondo, che possono spendere molti più soldi di quelli che possono spendere gli italiani. Per cui i top player, come si dice adesso, forse preferiscono più altre strade. Senti, invece di quelli che sono arrivati e che abbiamo visto, Bjarnason sembra un giocatore vero. Selic dovrà ancora dimostrare, ma su Bjarnason sembra che abbia le giuste caratteristiche per il campionato di Serie A. Io mi ricordo l'altro anno che quando facciamo l'uscita di Teramo c'era un pessimismo notevole intorno a un sacco di giocatori che avevamo. Purtroppo le uscite di luglio e di agosto sono quelle che sono. Questi ragazzi stanno lavorando tantissimo atleticamente. Quindi noi abbiamo visto una squadra che nei primi 20 minuti ha fatto vedere qualcosa, dopodiché era un po' sulle gambe. Però adesso parlare di chi è buono e chi non è buono mi sembra prematuro. Bjarnason sicuramente ha delle ottime qualità e caratteristiche, ma così come c'è la Selic, Selic è appena arrivato, è uno straniero. Bisogna che si ambienti un po', che capisca bene, che comincia a capire bene anche la lingua, quello che chiede l'allenatore. Intanto è vero che stiamo lavorando proprio su questa cosa qua, con l'interprete che è qui. Stiamo facendo, anche per questi ragazzi che sono appena arrivati, un lavoro anche da quel punto di vista, per cui ci vorrà un po' di tempo. Io penso che Selic va rivisto fra qualche settimana, probabilmente sarà già un altro giocatore. Bjarnason, poi ci sono giocatori che si adattano prima a quelli che ci mettono più tempo. Ci ricordiamo un altro anno Nielsen è arrivato, sembrava che stesse qua già da sempre, però non è sempre così. Grazie a tutti.